Io ero camminati da ragazzo quando ero a Capora Maggiore degli Alpini, prima di andare in Albania. E si faceva a piedi, si partiva dalla Val di Fiemi. Io ero a Cavalese, ma quelli del Verona erano più in là, erano asiano. E andavamo a piedi fino ad ora, a prendere il treno per poi andare in guerra, con lo zaino in spalla. Ma guardi, succede l'incidente e fanno tornare un eroe. In Russia sono spariti 80.000 italiani e i giornali non avevano parlato. Il primo Levi quando raccontava le sue storie, quando si è trovato in Polonia sul treno che ritornava in Italia, la gente si allontanava. Non volevano credere, dicono ma basta con queste storie, no. E questo è le cose che bisogna vederle nella loro importanza, nella loro obiettività. Muore in un incidente come l'ultimo in Viet, lì in Iva, e ritorna come un eroe, come un eroe, eccetera. E quanti nostri compagni sono rimasti lì e nessuno ne andava neanche a ricordare. Adesso poi le veline la televisione e la gente non vuole pensare. Io ai giornali direi questo, di spegnere la televisione e aprire un libro. E poi direi anche che dobbiamo conoscere la storia nostra, la storia che abbiamo vissuto. Perché come diceva Primo Levi, le cose che si dimenticano possono ritornare. E noi che le abbiamo vissute non vogliamo che ritornino, specialmente per i giovani. Ecco, invece di fortifo che facciano sport. E non abbiano fretta a crescere. Perché oggi i ragazzi hanno fretta a crescere. E poi arrivano a 35 anni e dicono noi ragazzi. E invece a 20 anni si è uomini. E si dovrebbe ragionare con la testa di uomini. A 17 anni no, ma a 20 si. E a 35 non si è ragazzi. Questo mi capita di ricevere molte lettere. Che mi scrivono, sono un ragazzo di 35 anni, ma quando diventate uomini? Ecco, allora dico ai ragazzi, spegnete la televisione e aprite un libro. Fate sport invece che tifo. E innamoratevi. Auguri per la vostra voce. Grazie. Grazie a tutti. Innamoratevi ragazzi. Arrivederci, auguri anche a lei. Grazie ancora per le parole che ha scritto. Con sua testimonianza, ma parte un anno. Buona vacanza. Grazie, grazie. Grazie dell'ospitalità. Buongiorno signora, grazie. Buongiorno. Ah sta preparando. Sì, sì, grazie. Grazie, buongiorno. 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 Cosa canta il soldato, soldatino, dondolando, dondolando. San tema. Buongiornoisa. Buongiorno. Buongiorno. Siamo stufi, a casa nostra vogliamo andare. Soldatino canta, canta, cavalli otto, uomini quaranta. Soldatino canta, canta, cavalli otto, uomini quaranta. Soldatino canta, canta, cavalli otto, uomini quaranta.